Quanto viene? Quanto viene? Quanto viene? La margherita quanto dovrebbe? Quel pezzo Quelli? Perché volevi quelli e questa? Sì, volevo due, ma non ce la faccio. E quanto hai? No, non ci arrivo proprio. Ah, lo divertivo. Facevo, me ne portavi, faccio il sconto. E ancora un pezzetto, dai. Sì. Sì. Guarda, fai tu, guarda. Cinque, va bene. Non bastano mai i soldi. No, no, guarda. Devo far arrivare anche questo. Sì, io vedo. Cioè, mi capo i soldi. Mi sento senza. È cara la vita. Hai per caso un bicchiere di plastica? Un bicchiere? Un bicchiere. Quanto costano? Uno. No, avevo una decina. Perché noi non li vendiamo, li diamo per i nostri clienti. Poi filtri di plastica? Quanto controlar. Un bicchiere di plastica? Un bicchiere. Un bicchiere. Eccolo di dominio. Un bicchiere di plastica. Un bicchiere. Un bicchiere, un bicchiere di plastica. Unaistä. Un bicchiere in bicchermia. Un bicchiere da un bicchiere di plastica. Un bicchiere, un bicchiere del bicchiere. Quanto禄 di告訴i, dip perpetualmente. Quanto nelle comuni per fare. Asticksramamращ Ah não. Comanda chierezza che r lysa. Grazie a tutti.